Si tratta di un autoradio touchscreen due din da 7 pollici con funzione FM. Puoi regolare il livello del suono della musica in modo arbitrario e scegliere la musica che fa per te. È una radio con più opzioni di lingua, supporta una varietà di retroilluminazione. Puoi scegliere il tuo colore preferito da impostare. Funzione Bluetooth integrata. È conveniente comunicare meglio con gli altri durante la guida e ascoltare la tua musica preferita più liberamente. Supporta l'uso di MirrorLink. Collega il telefono cellulare con la radio tramite l'interfaccia USB. Puoi controllare le funzioni di cui hai bisogno attraverso il volante più comodo, GPS integrato. Se hai acquistato la nostra radio e hai problemi durante l'installazione, non esitare a contattare il nostro servizio clienti. Grazie per la visione!